Mi sei riusciti oggi al Poggio, è arrivata una vera e propria corazza del campionato, però il Pescanà non ha demeritato un risultato magari bugiardo se si fosse realizzato il gol del 3-2, magari staremmo parlando di una partita diversa. Sicuramente il risultato è quello che è, abbiamo subito due gol negli ultimi 4-5 minuti in contropiede, sul 2-2 nel primo tempo loro hanno fatto due gol su un calcio d'angolo e sull'unica tiro in porta che hanno fatto. Noi abbiamo fatto il pareggio inizio secondo tempo, anzi abbiamo creato anche un paio d'occasione per fare il 3-2. Dopo purtroppo abbiamo commesso degli errori evidenti e purtroppo stiamo parlando di un risultato che sicuramente non rispecchia l'andamento della partita. I ragazzi hanno, primo tempo per una mezz'oretta e il secondo, hanno fatto una discreta partita, loro hanno giocato mentre il Chievo aspettava per poi partire in contropiede, il primo tempo, ripeto, hanno creato una sola occasione in cui hanno fatto gol, un calcio d'angolo dove ci hanno punito a tempo al 45esimo, quindi il primo tempo abbiamo costruito noi, il secondo è sulla stessa falsariga del primo. Chiaramente se abbiamo preso 5 gol degli errori li abbiamo commessi e dobbiamo lavorare per migliorarci.